La riflessione è partita in quasi tutte le scuole comunali della città di Napoli, in pochissime statali, perché nonostante gli inviti rivolti tramite i servizi municipali, molte scuole non hanno ancora dichiarato la volontà di iniziare la riflessione in un determinato giorno. I bollettini arriveranno regolarmente presso le scuole quando la riflessione sarà partita. La fase in cui ci troviamo è che a fronte dell'iscrizione dei genitori sul portale del Comune di Napoli, sono le scuole a questo punto che devono attivare le iscrizioni che il servizio ha ricevuto e ordinare i pasti tramite il servizio amministrativo delle municipalità. Non c'è alcun legame tra il bollettino e la possibilità dei bambini di usufruire dei pasti. Basta che i genitori si iscrivano sul portale e che le scuole ci comunichino la data in cui vogliono iniziare. La Commissione Scuola si è riunita già nel periodo estivo e ha dato un mandato chiaro all'amministrazione, che ha recepito e che ringraziamo, quello di partire immediatamente con la riflessione scolastica. Quindi oggi e domani le scuole comunali, quindi a gestione diretta dell'amministrazione, partono e sono partite con la riflessione scolastica. Ascoltiamo e aspettiamo il via libera da parte delle scuole statali. Chiediamo inoltre a tutti i genitori ovviamente di iscriversi immediatamente al servizio, a tutti i genitori che non l'hanno ancora fatto. Sono migliaia di averlo già fatto attraverso il sito del Comune di Napoli, anche a tutti gli altri chiediamo di iscriversi immediatamente. In ogni caso tutte le scuole che già sono pronte, anche le classi che sono pronte, possono immediatamente accedere al servizio tramite l'attivazione dalla scuola al Comune.